ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anch'io ho mandato loro nel mondo per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo nella loro parola giovanni 17 13 20 addio sia la gloria